good morning milano buongiorno a tutti a tutti buongiorno ben ritrovati qui sulle frequenze di crystal radio 7 0 8 venerdì 16 febbraio iniziamo un nuovo appuntamento appunto con good morning milano come state che fate dove andate siete già tutti svegli io siete ancora nel vostro letto ad ascoltare la mia dolce suave voce che vi dà il buongiorno e allora 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 il nostro numero di whatsapp potete scriverci per raccontarci un po quali sono i vostri programmi e soprattutto una cosa su tutte oggi è venerdì thanks god is friday ebbene sì venerdì è l'ultimo giorno della settimana che cosa che programma avete per il weekend dopo lo scopriremo insieme anche a erica a eri b lo scopriremo perché scopriremo quali saranno gli eventi la settimana cui lei non andrà ma che magari voi avete voglia di visitare e questi sono solo alcuni degli appuntamenti di oggi in questa puntata del venerdì ultima puntata della settimana prima di iniziare si inizia anzi con la musica e voglio mandare un messaggio a san giovanni avete sentito anche nel nostro giornale radio questa decisione di fermarsi è una decisione coraggiosa credo che ci voglia molto più coraggio a fermarsi piuttosto che continuare andare avanti e rotolare giù come delle pietre rotolanti giù dalla montagna e il coraggio di fermarsi quando si ha a certi livelli è davvero tanto ce ne vuole veramente tanto e complimenti allora a san giovanni speriamo però di ritrovarlo poi presto di nuovo a fare musica e allora iniziamo proprio con san giovanni finiscimi san giovanni finiscimi sangio non siamo qua che ti aspettiamo speriamo di ricevere presto buone notizie qualche nuova canzone qualche album in arrivo e magari anche avuto questi famosi concerti che abbiamo sentito poco fa nel giornale radio essere stati rimandati magari invece avevo modo di rivederti ma mi raccomando prima pensa a te stesso e questo è fondamentale stiamo vivendo tempi strani tempi complicati pensate cosa dove deve essere successo anche nella mente appunto di di sangio per farsi un sanremo quel tritacarne allucinante e a una settimana neanche dalla fine di sanremo annunciare questo questo stop pensate la pressione di tutti quelli che lavorano con lui delle case discografiche delle etichette che sicuramente ma non perché sono brutti e cattivi ma perché insomma quello è il loro business quello è il loro lavoro avranno fatto di tutto per cercare di scongiurare questo momento che invece è arrivato e chissà quante volte anche nella vostra vita ha successo qualcosa del genere quando insomma bisogna capire quando è che il senso del dovere non è più un dovere ma è una gogna è un cappio al collo quando quel senso diventa così opprimente per cui l'unica via di uscita è fermarsi che non vuol dire scappare attenzione vuol dire fermarsi perché noi viviamo tutti i giorni in un lungo e continuo flusso che va avanti va avanti va avanti e tu sembra che non puoi fermare nulla sembra che tutto va tutto scorre e ti travolge spesso e volentieri invece dobbiamo cercare di trovare il modo di fermarci che non vuol dire ripeto perdere fallire o abbandonare ma vuol dire riflettere guardare le cose da un'altra prospettiva guardarle guardarle passare riconoscere ciò che di quello che passa vale o non vale di essere rincorso perché poi la vita non può essere una continua rincorsa una continua ripeto discesa rotolante ovviamente ho davanti a me the rolling stones no cioè questa discesa rotolante che continuiamo a fare tutti i giorni alla ricerca poi di chissà che cosa sono tempi strani sono tempi complicati sempre di più i social fanno da padrona e poi leggeremo alcune notizie oggi su storie assurde ma anche il fatto che ormai non si parla più di persona guardate vi porto questa notizia da repubblica milano a me ha lasciato sconvolto un risvolto di questa storia vi leggo la preside che porta il pitbull a scuola la preside dice sono amareggiata da questo esposto nessuno si è mai lamentato ares è sempre al guinzaglio e per ora non so chi lasciarlo allora io non entro nel merito del è giusto non è giusto portare questo cane a scuola la preside dice l'ho sempre tenuto la preside dell'istituto verli dice guardate che è sempre stato con me in presidenza se devo uscire dalla presidenza è legato al guinzaglio sono solo tre mesi che succede questa cosa perché ho un problema familiare la cosa che mi sconvolge di questa storia è il fatto che si sia andato a fare un esposto nessuno è andato a parlare con la preside almeno così dice la preside nessuno è andato a parlare a chiedere a dire guardi preside ci sono degli studenti ci sono del personale che non apprezza questa cosa possiamo trovare un'altra soluzione no subito l'esposto subito repubblica subito la foto fatta di nascosto durante un'assemblea dove c'è seduta sul palchetto della aula magna credo qualcosa del genere anche bella distante perché bella sgranata la foto quindi vuol dire che bella zoomata la preside con di fianco la presidice legato al tavolo non si vede perché la foto è più bassa il il cane insomma dov'è quando abbiamo cominciato a perdere il il contatto tra di noi quando abbiamo iniziato a pensare che è meglio un esposto è meglio una foto nascosta è meglio un commento sui social piuttosto che parlare di persona quando 3317853555 è un whatsapp però vabbè diciamo che dai è quasi di persona ciao 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 la rappresentante di lista che non vorrei dire abbiamo visto a san remo in una versione pazzesca insieme ad analisa sweet dreams qualcosa veramente di uno forse dei pezzi più belli della serata delle cover che fa capire e anche lì torna sempre quel famoso discorso del voi avete visto la serata delle cover avete visto cosa non è stata cioè anche adesso non so come dirla senza offendere ma nel senso anche cantanti che magari quelli della mia generazione pensano a sicoli fanno le canzonette quelle si cantano solo bim boom bam cantano click boom cantano scusate un titolo ma davvero c'è quelle robe lì che non riusciamo a comprendere o comunque ci sembrano appunto solo canzoni riempi pista o diciamo crea tormentone li metti davanti a delle canzoni sacre e le fanno da dio le hanno fatte benissimo cioè quella versione di analisa insieme alla rappresentante di vista di sweet dreams è qualcosa da pelle d'oca davvero roba da farci un disco solo con quella ascoltare quella e far dire beh però l'originale era bella ma anche questa o ella cioè capite che tantissimi stati così vabbè non parliamo dei santi francesi insieme a skin ma tanti con una alleluia fatto in una maniera che davvero anche skin è qualcosa di un livello veramente altissimo che importa su anche il livello dei santi francesi che già erano alti su una canzone che è pazzesca capite che davvero questi ragazzi che a cui vengono dati in mano invece ragazzi ragazze a cui vengono dati in mano invece delle canzoni abbastanza vuote abbastanza tutte fatte uguale abbastanza fatte con il bilancino del creo il tormentone invece quando gli dai la canzone che ha sotto un grande spessore questo spessore si vede tutto quanto perché esplode esplode grazie alla loro bravura grazie mille ad alberto che ci sta scrivendo al 3317853555 buongiorno e buon weekend a zio fabio basta ormai questa cosa di zio fabio l'ho detta tre giorni fa ormai me la porterò dietro per sempre ma sono il vostro zio della mattina sì è vero e agli ascoltatori di cristal radio milano bene allora buongiorno e buon weekend anche a te ricordiamoci poi weekend diteci un po cosa volete fare ma rimanete qui perché fra un po eri b ci viene a dire invece cosa non fare e quindi potrebbe essere di spunto invece per trovare qualcosa di interessante tutto questo sempre qui in diretta su cristal radio good morning milano tante le notizie che abbiamo qui dal nostri dei nostri giornali piccolo inciso ieri appunto ha giocato il milan a san siro che ha vinto 3 a 0 sul ren giornata complicata dal punto di vista della gestione dei tifosi perché leggiamo sia da repubblica che da corriere l'invasione dei tifosi del ren in 3.000 si sono trovati all'arco della pace in marcia verso san siro numero arrivato a san siro invece 6.000 si sono raddoppiati lungo la strada scortati ovviamente dalle forze di polizia carabinieri e quant'altro polizia di stato arma dei carabinieri guarda di finanza e anche parte della polizia locale ha aiutato il deflusso verso lo stadio dei tifosi del ren e oltretutto ha dovuto anche gestire tutta la normale la normale viabilità e gestione del pubblico di tutto il resto di san siro tra i 3 4.000 tifosi sono trovati appunto all'arco della pace poi in corteo verso lo stadio di san siro fumogeni cori non c'è stato nessun tafferuglio non c'è stata però insomma tutto molto controllato diciamo di odato con ti muovi e devo dire che l'abbiamo preso tanto in giro durante san remo un po così dicendo di odato chi è che va con il gioco di odato sapete che a me piace alla fine questa canzone mi piace comunque è venerdì è venerdì e il venerdì c'è lei sì eri b gli eventi della settimana a cui io non andrei buongiorno buongiorno eri b buongiorno ecco ti parto subito dicendo che se ci fosse un concerto di diodato io non andrei e anche io pensavo così invece 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 vedi come si cambia la vecchiaia è così è proprio così buongiorno a tutti buongiorno allora oggi saranno molto probabilmente o più persone o meno persone ad ascoltarci perché perché le dannate scuole sono chiuse perché fabio perché carnevale che fastidio come che fastidio ah intanto ti faccio una domanda che esula un attimo da questo tu ti ricordi se quando noi andavamo a scuola a carnevale si stava a scuola si stava a casa allora io ti direi che si stava a casa però non ne ho la convinzione convinta allora ho parlato con mia mamma di questa cosa e lei si ricorda per certo che mio fratello andava a scuola a carnevale e mio fratello faceva il tempo normale quindi non si faceva tempo pieno andava a scuola anche il sabato e poi lo andava a recuperare a scuola lo vestiva subito da carnevale lo portava in centro quindi vuol dire che andavamo a scuola può essere non lo so qualche dubbio ma può essere va bene allora partiamo subito in pompa magna sì vi dico tutti gli eventi del carnevale che non me ne frega niente non ci voglio andare benissimo allora ovviamente sono tutti domani perché tutte le sfilate sono domani forse il tempo reggerà e questo un po' mi spiace perché? perché era più divertente se si bagnava guarda è attentissimo allora sabato 17 alle 14.30 c'è la sfilata di carnevale a Cusago ok dove ho fatto la scuola media io quindi l'ho fatta io quella sfilata di ecco anche a settimo dove ho fatto la scuola elementare dove ho vissuto eratto e poi ci saranno anche i carri in piazza del Duomo ah torno ai carri in piazza del Duomo? sì pare di sì pare di sì domani comunque si dà sole 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 che bello come sono contenta e ho finito gli eventi del carnevale come ho finito gli eventi del carnevale? le sfilate io le detesto e quindi mi ha finito per oggi? no 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 andiamo avanti questa era la parentesina del carnevale ma io penso che comunque qualsiasi paese abbia la sfilata sabato vabbè comunque io ho detto quelli che ci interessano ah perché non interessa solo Cusago e Settimo? no quelli vicini ci sono Boscone e vicino boh non mi interessa ok va bene ok sabato alle ore 15 c'è un'inaugurazione di una cosa che in realtà è già aperta però vabbè fa niente viene inaugurato il Luna Park Meneghino 2024 al Parco Sempione che durerà fino al 10 marzo ti piace il Luna Park? no allora cosa mi dici? vabbè capito non piace a me ma magari qualcuno io non ci vado ma dai che strano pensavo che una volta ci fosse il colpo di scena a Braccetto insieme al Luna Park c'è il Milano Clown Festival sì sul ponte in realtà il Tenerà è diffuso che è un'altra di quelle cose che mi nervosisce clown diffusi tu ci vai a nozze è iniziato il giorno di San Valentino e durerà fino a domani tendenzialmente in isola potevo portarti per San Valentino fuori con i clown non ti avrei piaciuto? no no proprio categoria in isola c'è la scuola di clown non è lì per caso allora raga vi piace? andateci a me non mi piace non ci vado uno dei più grandi clown d'Italia io sono molto democratica nel senso che io non ci andrei però se voi volete andarci chi vi dice di niente? divertiteli va bene poi 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 ma di Maurizio Accattato mi ricordavo bene una scuola di clown di clowneria dell'isola allora poi ti dico questo evento che in realtà è un evento che si terrà al Next Museum che ho scoperto essere a Sesto San Giovanni apre la mostra Love ovviamente ha aperto il 14 febbraio e terminerà addirittura il primo di settembre è una di quelle mostre quindi hai tanto tempo per non andarci esatto è una di quelle mostre che viene definita una vera e propria esibizione da selfie nel senso che ci sono tunnel di cuori le altalene coi fiori tutte quelle cosine lì per farsi le foto ti piacerebbe andarci? tu fai tante foto fai? io faccio tante foto ma non andrei mai a spendere 20 euro per fare una cosa del genere vabbè anche se andrò alla mostra di Yayoi che è l'artista giapponese dove ho speso 13 euro a Bergamo sì a Bergamo per una stanza tutta luminosa dove ci stai dentro 60 secondi vedi quindi ogni tanto qualcosa di strambo lo fai anche tu c'è dietro qualcosa di strambo lei è stramba e va bene così lei è stramba ragazzi è chiuso in un ospedale psichiatra ho capito ma devo dire che strambo vabbè comunque hai detto stramba strambo è una cosa bella Viola sbatte la testa dice non si può non si può raga fa niente va bene ormai è andato conclusato ormai è andato concludo con una cosa che in realtà ho messo che non andrei ma potrei andarci vacilla la tua certezza del non fare qualcosa ma potrei andarci solo ed esclusivamente perché il mio compagno di vita è un amante di questa roba trenini? no lego? no cos'altro mi piace non lo so ops ho confessato allora c'è l'Asian Street Food Market ah se magna capito solo a me piace mangiare capito vabbè il titolo è Asian Street Food Market Milano Taste of Oriente ok in via nono avevamo già detto dove è via nono ma credo che sia in zona Paolo Sarpi non me ne ricordo c'è ingresso libero con registrazione all'associazione del Tempio del Futuro e ci sono sì 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 e ci sono tutte le bancarelle per mangiare in realtà eravamo già andato a una roba dell'Oriente ed era stata abbastanza una roba schifa ma molti anni fa non adesso ma ci ascoltano magari gli uffici stampa che ci hanno dato anche l'invito ma io non so andiamoci per dimostrare che non è così quindi mandateci pure i pass per andare a questi posti ma gratis che passi dobbiamo andare che ne so io fatevi una registrazione per noi anche se c'è scritto che è molto veloce c'è scritto anche che è molto veloce sì io adoro perché ogni tanto vengono fatti dei comunicati stampa dove si invoglia la gente ad andare dove c'è scritto gratuita gigante registrazione molto veloce così non vai lì con troppo sbattimento beh dopo di che è gratuito l'ingresso ma credo che la magnata vuoi pagare immagino sì certamente tra l'altro non te la regaleranno ma non è detto ma cosa ne sai no 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 il tempio del futuro perduto comunque è un posto abbastanza sociale anche cioè nel senso ha tutta una sua ottica di mutuo aiuto di soccorso va bene non sembra non da cracco cioè nel senso vabbè ma niente anche cracco magari regala qualcosa a qualcuno ogni tanto la sua fidanzata da San Valentino quando è questa cosa dell'Asian che mi interessa invece comunque c'è questo weekend non ha scritto le date però c'è questo weekend ne sono certa sabato e domenica sabato sicuro ma forse anche domenica forse come si chiama se mi dai un secondo lo vado a vedere come si chiama la roba Asian Street Food Market vabbè cercatelo su Google perché come sempre le notizie di ieri sono poche e confuse ma ho finito hai finito basta va bene carnevale però il problema è che se vai in giro mi fa schifo carnevale non è che volevo questo outing che tanto lo sapevamo già da sempre anche quando ero bambina ma non è vero che ti eri vestita da qualcosa mi ricordo vuoi sapere da che cosa mi vestiva mia mamma io ho un fratello di otto anni più grande di me lui un anno ha avuto un bellissimo vestito di Batman otto anni dopo l'ho avuto io tu sei vista da Batman otto anni da tuo fratello sì Batgirl tutte fatine e io vabbè vabbè almeno davi da vedere cosa davo svettavi svettavi sulle altre tutti uguali poi però tutti gli anni mi facevo venire l'acetone così non andavo a fare la parata vabbè ok questo vi fa capire come si arriva agli eventi della settimana a cui non andrei cioè c'è una palestra dietro c'è un allenamento che dura da anni carnevale è uno degli eventi dove non andrai mai quello vabbè c'è il fuorisalone c'è la settimana della moda la settimana prossima la sento già per potente dietro di me va bene e allora Eribi ci sentiamo la settimana prossima così almeno potrai scansare anche la settimana della moda certo io scanso tutto va bene allora scelta da Eribi l'ufficio di programmazione prontamente ha cambiato la scaletta proprio per te Eribi la prossima canzone Gali con Casa Mia ciao ed è Gali con Casa Mia 7 e 44 minuti Crystal Radio Good Morning Milano buongiorno a tutti grazie anche dei Whatsapp che sono arrivati al 3317853555 stranamente molti anche solidali con la scelta di Eribi di non andare a festeggiare il carnevale siete tutti dei Grinch Grinch carnevaleschi esiste come si chiamerà comunque andiamo avanti a leggere le notizie che ci arrivano dai giornali Repubblica Milano notizia che arriva appunto dalla Repubblica Milano titola così alla Bocconi sospesi tre studenti per i commenti sui bagni gender neutral sui social le offese tipo li puoi usare per andare a trans sospensione di sei mesi per aver violato il codice di comportamento cosa è successo in poche parole vi leggo vi faccio un sunto di quello che è successo da qualche mese in undici edifici della Bocconi sono presenti dei bagni gender fluid cioè meglio scusate all gender nel senso che non sono divisi gender neutral scusate non sono divisi tra maschi e femmine cosa anche che io trovo comoda a prescindere ma cosa è successo che appunto sono stati fatti questi bagni sono stati anche pubblicizzati diciamo promossi con vari post sui social e anche con dei servizi da Bocconi TV e Radio Bocconi dopodiché uno dei promotori appunto che si chiama Samuele Appignanesi ha postato tutto questo materiale sui propri social e apriti cielo numerosissimi commenti e insulti sotto questi post tanto che alla fine ha dovuto intervenire anche la Bocconi stessa sospendendo alcuni studenti tra cui appunto dicevamo tre studenti che si erano fatti diciamo si erano fatti erano fatto il meglio di tutti gli insulti proprio quelli fatti bene che insomma non ci piacerebbe mai leggere sotto qualcosa del genere soprattutto perché davvero trovo delle cose veramente aberranti Repubblica ne riscrive qualcuno però insomma io non sto neanche a leggerlo e nel comunicato dell'università si dice che tali messaggi virano il diritto al rispetto nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità accademica e sono inoltre lesivi dell'immagine e della reputazione della Bocconi stessa l'Ateneo quindi applicato quanto previsto dal honor code codice etico che tutti gli studenti sottoscrivono al momento la descrizione e dai suoi regolamenti sospensione di sei mesi dalla partecipazione agli esami così come da quelli di laurea quindi se uno di tre si doveva laureare sono cavoli amari ma magari ci pensi meglio la prossima volta prima di scrivere un commento così stupido sotto la notizia così neutra anche la notizia mi viene da dire cioè bisogna essere favorevoli o contrari è un bagno è un bagno che viene aperto alla possibilità a chiunque di poterci andare vacci e non rompere le balle c'è detto proprio terra terra non è inutile che stai a fare tanta comicità inutile ma soprattutto non era comicità ma sono veramente insulti perché una battuta ci può anche stare ma se la battuta è fatta a tavolino tra di noi mentre ridiamo e scherziamo è un conto fatta sui social sotto al post della persona che oltretutto è stata promotrice di questa iniziativa appunto di Samuele Apignanese insomma non sono più battute sono veri e propri insulti tra pareti però appunto ripeto quello più ci vai per andare a trans è inutile che fai tanto il neutro ma se c'hai il pesce devi andare in quello lì di bagno cioè commenti del genere che lasciano davvero davvero l'amaro in bocca con la pesce di Martino insieme alla Vanoni sono mancati tutti e tre a San Rimo secondo me soprattutto con la pesce di Martino mi sono mancati tanto non li abbiamo visti strano come mai non erano da quelle parti un po' chissà 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 comunque notizia invece di attualità non notualità di cronaca milanese ieri a Rozzano è andata in fiamme il tetto della chiesa scusate di Santi Monica Agostino eh sì Rozzano che aveva visto qualche giorno fa anche insieme con la zona zona sud così altri incendi adesso si va a fuoco anche la la chiesa appunto una scena abbastanza inquietante perché a fiamme alte e grandi colonne di fumo nel tetto della chiesa di Santi Monica e Agostino quindi anche Rozzano ha la sua Notre Dame e appunto i vigili del fuoco sono intervenuti ieri intorno a luna del pomeriggio a Rozzano per un incendio scoppiato all'interno della parrocchia di Santi Monica e Agostino così leggo da Repubblica Milano in via Monte Grappa a Rozzano le fiamme hanno avvolto il tetto della chiesa interessato in questo periodo da lavoro di ristrutturazione davvero vedete come fu per Notre Dame qualcosa evidentemente è andato storto o qualcosa non ha funzionato nel cantiere e quindi sono problemi sono cose che possono succedere speriamo che succedano sempre di meno perché davvero diventa problematico quando si hanno situazioni del genere e adesso saranno le indagini di vigili del fuoco e ovviamente polizia carabinieri che capiranno le cause di questo incendio e andranno ad indagare su quello che è successo troppo spesso sottovalutiamo i rischi che ci possono essere da incendi a volte diciamo ma come è possibile che prende fuoco tutto e a volte basta poco e in un attimo poi si può passare alla tragedia e spesso i vigili del fuoco ce lo ricordano ogni giorno sono tantissimi gli interventi che fanno in città soprattutto per controcircuiti elettrici o situazioni un po' particolari dal punto di vista elettrico che vengono poi a divenire situazioni complicate difficili e spesso che sfociano in incendi a volte molto molto preoccupanti come ad esempio questo che per fortuna non ha visto coinvolto nessun essere umano ma che ha visto andare in fumo e in fiamme il tetto della canonica credono della canonica della chiesa di Santi Monica e Agostino a Rozzano noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa lo sapete dopo di noi il giornale radio ma torniamo qua torniamo qua dopo il giornale radio con i nostri ospiti a parlare di Milano oggi parliamo molto anche di digital come siete messi come siete messi o dopo l'SMS siete riusciti ad andare avanti a fare qualcosa o siamo ancora rimasti all'SMS ah neanche quello bene allora l'ospite che verrà sarà importante perché vi porteremo nel futuro per alcuni di voi e invece per molti altri vi porteremo nel presente ma ve lo spieghiamo bene e meglio così che sappiate davvero che cosa state vivendo e com'è il vostro presente in questo momento avanti con la musica Pink All Out of Fight Gliacqua con Barbie Girl questo era il Crystal History delle 8 ben ritornati ben ritrovati qui a Good Money Milano sempre qui su Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus e poi c'è l'app c'è il sito lo sapete tutte quelle cose lì che ogni mattina vi dico 33178 853 555 grazie mille per i whatsapp che ci state scrivendo e tenetevi caldi perché adesso invece è arrivato il nostro ospite buongiorno a Gaetano Romeo buongiorno Fabio e buongiorno a tutti i radiospettatori che io definisco già eroi che sono già svegli attivi dalle 6 di mattina ma guarda che questi sono già arrivati dove devono andare hanno già fatto cosa questo oramai siamo noi che siamo ancora qui che dobbiamo carburare nonostante sia venerdì nonostante siano quasi centesima puntata anzi attenzione prendo scusa Gaetano ti rumo un attimo ragazzi volentieri viola conferrami lunedì puntata numero 100 di Good Morning Milano giusto? di questa stagione cioè non di questa stagione puntata numero 100 tra la stagione scorsa e questa bene quindi si festeggia lunedì non so come festeggeremo in qualche maniera quindi ho la sfiga di essere il 99 sei il 99 sei il 99esimo sei puntata 99 con Gaetano Gaetano allora noi oggi parliamo di anzi direi di digital e non solo però nel senso di come digital in realtà poi fa parte della nostra vita fisica ormai ormai sì perché tu Gaetano di cosa ti occupi? io sono un esperto di digital marketing in particolar modo la mia diciamo verticalità principale la SEO che è un acronimo che sta per Search Engine Optimization quindi l'ottimizzazione sui motori di ricerca in particolar modo ovviamente Google visto che nel mondo occidentale particolarmente in Italia usiamo principalmente quasi con percentuali bulgare più o meno il 95% utilizziamo Google come motore di ricerca il 95% delle nostre ricerche vanno fatte su Google sì almeno al momento poi voglio conoscere quel 5% che non lo usa sapere cosa fanno ma secondo me quel 5% sono ancora quelli che hanno quegli smartphone del 2016-17 che sono costretti a usare Bing perché sono di Microsoft ah Windows Phone esatto esatto è molto probabile che siano che siano loro però Fabio diciamola ho usato una marea di paroloni acronimi e robe varie semplicemente avete un sito internet dovete vendere qualcosa il mio lavoro il lavoro dei miei colleghi è quello di fare trovare la vostra attività quando le persone cercano con delle parole chiave mirate la vostra attività ah ecco vedi quindi se non trovate qualcosa su Google non è che dovete chiamare la caratteristica non lo trovo no e se non vi trovano a voi su Google che bisogna chiamare la caratteristica non mi trovo non è lui non è il tutto città di Google esatto e semmai vi aiuta invece per fare in modo che voi vi diamo sì diamo anche un esempio stupido avete un e-commerce che vende scarpe da tennis con le varie combinazioni scarpe da tennis uomo bianchi o con i vari brand non fate delle ricerche non trovate mai non vi trovate mai allora lì in quel caso avete bisogno di un SEO specialist di attività SEO ecco ecco in modo che vi trovate la vostra attività 331-7853-555 arriva già prima un whatsapp che si dice grande Fabio buongiorno d'ambrogio patrono di Milano Digitale eh sì il nostro il nostro ambrogio ci scrive tutte le mattine quindi siamo contenti beh allora stamattina possiamo capire un po' meglio invece su come proprio districarci in mezzo a questo mondo tra parentesi mi hai portato un libro mi hai portato qui quindi sai anche scrivere a me questa è una notizia no scherzo no no io mi vanto di una cosa questo ti avrei fatto solo la copertina no chissà questo è il mio settimo libro settimo libro infatti io stavo guardando sul tuo sul tuo sito praticamente è una succursale di Amazon esatto infatti li trovate tutti su Amazon è il mio settimo libro dove tratto principalmente le tematiche legate a digital marketing ma con un occhio particolare agli algoritmi infatti oltre Google la mia più grande passione è LinkedIn mi ritengo un esperto di LinkedIn soprattutto dell'algoritmo non mi riferisco a un LinkedIn trainer ma una persona che approfondisce conosce bene l'algoritmo di LinkedIn e ho scritto due libri il primo l'algoritmo di LinkedIn che è stato il mio best seller e adesso questo l'ultimo è uscito il 15 dicembre quindi freschissimo LinkedIn marketing che ho scritto con un'altra persona Alessandro Canuli dove io mi sono occupato di tutta la parte organica quindi non a pagamento mentre Alessandro si è occupato di tutta la parte delle LinkedIn ads capito ho toccato entro il cavo come al solito però non ho detto perché mi vantavo perché ho scritto sette libri tutti prima dell'era di chat e GPT quindi nessuno mi può dire che li ho scritti con chat e GPT quindi è tutta farina nel tuo sacco perfetto la prima cosa che abbiamo imparato da questo libro prima di tutto che non si dice LinkedIn ecco già questo come che è? LinkedIn LinkedIn ecco quindi già se già chiamate leggete se già dite sono su LinkedIn bene ci ha fatto il libro e comincia a leggere perché mi sa che ne hai bisogno io ho sentito dire pure LinkedIn quindi quando mi dite LinkedIn va bene pure no perché se ci rifletti è l'inglese è linked cioè linkato LinkedIn ok perché si gioca proprio sul fatto di avere i collegamenti infatti vengono chiamati poi in traduzione in italiano allora adesso noi andiamo un attimo con Sophia and the Giants con DNA ma poi torniamo qui sempre con Gaetano e andiamo un po' più nell'ospetto di specie per capire un po' come possiamo anche avvicinarci a questo mondo digitale senza rimanere schiacciati perché poi è questa la paura sempre nonostante non sia l'ultima novità nonostante siano anni che viviamo nel digitale comunque c'è sempre paura di rimanere schiacciati da questo colosso che è il mondo del digital Sophia and the Giants DNA Sophia and the Giants DNA 8 e 15 minuti Crystal Radio Good Morning Milano qui con Gaetano Romeo stiamo parlando di digitale allora la domanda è proprio questa Gaetano nel senso come facciamo a non rimanere schiacciati dal digital perché questa è la paura di molti molti anzi non si avvicinano neanche perché no non so cosa c'è non ho paura rimarrò schiacciato da quella roba lì invece no anzi la nostra vita fisica deve essere parallela la nostra vita digital allora la premessa è d'obbligo qui non si parla nemmeno più del futuro del prossimo futuro questo è un totale presente questo è un totale presente ok quindi siamo nel presente la paura la capisco ma per certi punti di vista è ingiustificata perché se ragionassimo così un po' anche ho accennato poco fa chat e gpt no la paura di tanti professionisti chat e gpt ci ruberà il lavoro meno però Fabio è la storia dell'essere umano a me piace sempre scherzare dire la storia dell'homo sapiens no è fatta di novità nuove scoperte tecnologia io vengo dall'altro lato di Milano se non diciamo non avessi i nostri avi non avessero sempre avuto la voglia di scoprire nuove tecnologie sarei venuto col cavallo invece sono venuto con la macchina quindi la paura è giustificata da un lato ma si deve avere la forza di superarla perché comunque attenzione c'è sempre qualcuno qualche vostro competitor che non ha paura approfitta di tutti i nuovi strumenti digitali e vince il mercato mentre voi ancora state dentro la vostra bottega perché la differenza fondamentale fra il fisico e il web attenzione il fisico non deve scomparire deve rimanere uno dei più grandi errori tra l'altro è sempre quello di dire ormai faccio e-commerce faccio il web e il fisico non mi interessa più no è un errore gravissimo rimane ci sono tante strategie legate al local marketing local search il concetto di omnicanalità tutto sempre presente però la differenza è che un locale diciamo di quartiere puoi prendere le persone del quartiere in una città grande come Milano o come Roma il web arriva in tutto il mondo e non hai più confini si abbattono i confini infatti si parla anche di passaporto digitale è un passaporto dove puoi raggiungere chiunque puoi vendere il tuo prodotto anche in India mentre fino a ieri è rifermo al tuo quartiere nel libro che mi hai portato che è LinkedIn Marketing parli appunto di questo social è definibile un social o è portale è un social è un social tecnicamente è un social ma è un social diverso perché lì puoi fare veramente tanta SEO tanti contenuti per esempio in pochi tanti in pochi sanno che LinkedIn ti fornisce gratuitamente una piattaforma per creare contenuti che è LinkedIn Pulse che si posiziona tra l'altro molto bene su Google quindi tu teoricamente non hai neanche bisogno per fare personal branding per esempio non hai bisogno di aprire un tuo blog ma puoi direttamente usare LinkedIn sono gli articoli che sono scrivendo giusto? sì sì che ricordano un po' medium sì il concetto è quello lì si posiziona benissimo visto che mi hai fatto l'assist sì spaziamo un secondo e poi ritorniamo quello che in realtà non è un social che tutti crediamo che sia un social è YouTube YouTube è un motore di ricerca ok ovviamente legato a video e la cosa simpatica è che tutti lo definiscono un social quando è il secondo motore di ricerca più grande del mondo ecco ed è sempre di Google tra parentesi il primo è Google ovviamente il secondo è YouTube prima la mano destra e poi la mano a sinistra ma molti pensano che invece LinkedIn sia solo per andare a trovare lavoro cioè è il mio curriculum come fosse un po' MySpace di una volta per le band che cercavano di trovare la serata giusta io vado lì basta che mi scrivi faccio bene metto tutto quello che so fare e troverò lavoro non è così non è così anzi involontariamente Fabio hai fatto proprio un incipit perfetto perché è quello che noi che ci occupiamo di LinkedIn diciamo sempre LinkedIn non è il tuo CV non è il tuo curriculum LinkedIn parti dal tuo CV ma è per farti notare ok la differenza fra un candidato attivo e un candidato non attivo è fondamentale perché ormai gli headhunters non sono più quelli appunto visto la tecnologia vanno gli headhunters controllano le tue attività social cosa fai se sei anche ahimè non è bello però se sei politicamente esposto come ti esprimi sui social che gergo hai sui social LinkedIn è la piattaforma perfetta per fare personal branding perché comunque se io parlo sempre di un qualcosa lasciamo stare le attività social però se sono un esperto di risorse umane e mi occupo sempre di risorse umane do contenuti sulle risorse umane do contenuti come risolvere certe problematiche perché poi Fabio ricordiamoci sempre che le persone cosa cercano? Risoluzione ai problemi l'obiettivo nostro deve essere quello di intercettare questo intento di ricerca e dare queste risposte più risposte diamo più andiamo a piacere più facile che veniamo selezionati ma qui la domanda poi è però non sono solo io che gestisco il mio LinkedIn nel senso che c'è un algoritmo c'è qualcuno che decide se quello che ho scritto è meno o più importante come si fa a capire questo algoritmo manco loro secondo me lo sanno invece tu dici no si sa e io posso scardinarlo o meglio comprenderlo tradurlo allora scardinarlo sarei 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 un po' troppo pretuntuoso e meriterei di essere cacciato in questo momento perché comunque gli algoritmi ricordiamoci qualsiasi sia la piattaforma sono proprietari appunto delle piattaforme e nessuno ne conosce il reale funzionamento e come sai ma loro si io ho questo dubbio le piattaforme stesse sanno come funzionano ormai gli algoritmi o li hanno persi ti posso dare la mia opinione o sono troppo Matrix in questo momento a pezzi secondo me secondo me perché comunque ci sono una serie di ingegneri che si sono alternati nel corso degli anni comunque ovviamente perciò con forza il 99% lo conoscono bene però è molto probabile che c'è quell'1% che scappi per dare qualche consiglio innanzitutto è fondamentale come compili il tuo profilo vedo dei profili scarni senza informazione il profilo appunto non è un curriculum è la tua pagina MySpace che è molto più corretto devi dare tutte le informazioni possibili e immaginabili ricordatevi più e qui torna la SEO più scrivi più keywords prendi più keywords colpisci più keywords aggredisci quello che dichiari però attenzione è il tuo biglietto da visita e qua andiamo Fabio all'algoritmo perché perché quello che dichiari deve essere poi a cascata sparato nei tuoi contenuti ok quindi se gli dico di fare una cosa poi devo farla veramente se tu dichiari di essere un esperto SEO che ti occupi di algoritmi che ti corpi e poi parli delle ricette Google dice non è scusate LinkedIn dice non è una persona affidabile io faccio girare i contenuti delle persone che sono veramente schillate in quell'argomento perché attenzione c'è una grande differenza fra LinkedIn e gli altri social LinkedIn è una piazza virtuale come se fossimo in fiera se siamo amico qua dietro e ci scambiamo i bigliettini ok quindi a differenza di Facebook per esempio che non è morto poi ne possiamo anche approfondire questo lo approfondiamo come LinkedIn non vuole che tu un contenuto fai la condivisione ti dà la possibilità ma l'algoritmo non piace vuole che tu commenti perché più commenti più c'è engagement in quella piazza se invece un contenuto tu me lo condividi cosa stai facendo lo stai dividendo in tante piccole fette di torta mentre LinkedIn vuole che tu rimani nella torta principale interessantissimo direi allora rimani qua anche tu rimani qui sulla torta principale che è il nostro tavolo perché adesso andiamo con un po' di musica e poi torniamo sempre qua su Cristal Radio con un mal di Milano a parlare anche com'è Facebook non è morto è cosa interessante in questo momento ci stanno guardando anche in diretta a Facebook quindi salutiamo gli amici di Facebook a questo punto ciao 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 Bruno Rissas capita così io per me tu per te io per me tu per te e quindi io ti chiedo a te di spiegarmi come cavolo dobbiamo fare per far funzionare questi social o meglio ormai si dice lo dicevi prima Facebook è morto Facebook is dead ricordiamo una vecchia copertina che diceva rock and roll is dead ecco mai morto del rock and roll e molto probabilmente neanche Facebook sta morendo anche perché anche perché della SEO lo dicono la SEO è morta la SEO is dead almeno almeno non voglio esagerare da dieci anni e la SEO non è morta è viva e vegeta la SEO morirà la SEO morirà quando la gente smetterà di usare i motori di ricerca quindi mai quindi mai probabilmente o comunque ci sono con l'intelligenza artificiale ci sono degli enormi cambiamenti in arrivo però da qui a non far usare più il motore di ricerca alle persone sono ancora molto dubbioso per quanto riguarda l'utilizzo dei social l'avevo detta lo ripeto Facebook non è assolutissimamente morto perché comunque se andiamo a vedere dati di noi addetti ai lavori le campagne che facciamo su Facebook e chi soprattutto io ascolto vedo post di colleghi che su Facebook sono molto più bravi di me anzi non è il mio non sono bravo affatto loro sono veramente bravissimi dove danno dei dati che obiettivamente ci fa dire che non è assolutamente così Facebook probabilmente in termini di entrata per le aziende rimane ancora il canale più importante lato social media che poi tu Fabio dietro insomma quando eravamo in pausa canzone dicevi una cosa interessantissima ah vede qualcosa che è interessante spiegato quello di fuori onda esatto però te ne voglio dare atto e la riporto qui e non la faccio mia e di Fabio Ranfi questa qui che giustamente dice io sono pienamente d'accordo come si fa a dire che Facebook è morto quando in realtà si dice ci siamo i boomer che tecnicamente è anche sbagliato però siamo quelli con potere di spesa più alto sì non nel mio caso ma sì comunque in generale siamo come si chiamavano big spender non c'era un nome tecnico penso una cosa del genere big spender che in italiano abbiamo coniato la parola alto spendenti ecco va bene non so cos'è peggio esatto esatto comunque sì il concetto che dicevi è correttissimo il concetto qual è che quelli che hanno i danè non stanno su Instagram a fare i like e TikTok ma stanno su Facebook ahimè gattini e compagnia bella abbiamo tanti soldi ma non è che abbiamo elevato molto il livello della conversazione però è quella roba lì e invece sembra apparentemente che invece le aziende e tutto il mondo la comunicazione dicano no però bisogna andare sulle nuove generazioni sui giovanissimi su quelli che fanno milioni di like che però poi adesso non me ne voglia Viola e la sua convricola regia di super giovani non c'hanno i soldi per affitto però poi si tristemente sì e poi anche da dire che comunque il like è buono quando è legato ad una metrica che porta delle entrate per l'azienda il singolo like se non porta entrate allora è una metrica sbagliata quelle che poi chiamiamo vanity metrics cioè metriche della vanità sì ho preso in quel posto ho preso un milione di like ok che revenue ho avuto 100 euro non mi serve a nulla ok questo è molto importante come è importante partendo dalla tua domanda iniziale imparare ad usare i social in maniera corretta non sono tutti uguali ogni social ha il suo pubblico di destinazione diverso non potete fare copia e incolla su linkedin facebook instagram è il nuovo trez che ne parlavamo anche fuori onda o mettiamoci ancora il vecchio twitter x quello ci dimentichiamo ogni tanto non ogni piattaforma è diversa ogni piattaforma ha un tipo di comunicazione è diverso ogni piattaforma ha un target diverso e quindi dovete gestire e creare il vostro piano editoriale in base al pubblico di riferimento il fatto è che alcune di queste piattaforme siano in mano poi alla stessa azienda questo cosa comporta invece niente dal punto di vista dell'utilizzo è solo oppure c'è solo siamo in mano a tre invece che a dieci oppure anche nel momento dell'utilizzo anche nel momento della reputazione sui social questa cosa può influire allora la prima domanda all'ultima domanda ti dico no non influisce il fatto che la stessa piattaforma probabilmente ti riferisci a Meta a Facebook Instagram c'è anche Whatsapp volendo diciamo un leggero Whatsapp assolutamente sì un leggero vantaggio ce l'hai su Trez perché ti porti i contatti di Instagram quindi diciamo da lì cresci subito diciamo Trez è una versione molto simile al vecchio Twitter il nuovo X così come diciamo l'ha voluto chiamare il suo nuovo proprietario e lui è fissato con la X lui è fissato la prima Tesla si chiamava X suo figlio ha delle X nel nome qua la dico e qua la nego come si suol dire ma probabilmente tra qualche anno avremo la più grande case history di un grande fallimento come distruggere un brand vedremo vedremo però i risultati i dati in questo momento non dicono altro che questo insomma è un maschera quello che ha fatto dei miracoli che nessuno pensava chissà cosa ci terrà fuori chissà cosa lui vede che noi non vediamo magari assolutamente sì tra l'altro la grande capacità almeno la dico personale di vendere delle macchine per carità a livello tecnologico belle ma dal gusto estetico che lascio nel tempo che trovo e quindi comunque tanto di cappello come imprenditore lungi da me dire qualcosa contro e quindi mi dicevi che appunto il fatto che siano tutte le piattaforme insieme non è un problema anzi nel caso appunto di Trez si può aiutare Trez è uno di quei misteri invece che forse anche tu fai fatica a comprendere cioè uno ne avevamo bisogno due perché tre come allora rispondiamo subito alla domanda ne avevamo bisogno la mia risposta abbastanza secca no nonostante ci sono e non ti dico l'utilizzo Fabio provo ad utilizzarlo ah ok se anche il professionista lo troviamo un po' in difficoltà nel capire come si usa pensate voi si è fantastico perché così siamo fra amici lo diciamo così anche si può dire non dico una parolaccia ma qualcosa di un po' più spinto mentre su facebook e linkedin in particolar modo un engagement altissimo instagram e così così oh Fabio su Trez non mi caga nessuno cosa dice lunga però appunto non è detto che se sei qualcuno da una parte quella cosa continui dall'altra parte sto provando l'ebbrezza di prendere zero like ah non male benvenuto nel club che a volte mi chiedevo credimi mi chiedevo vedevo dei post di alcune persone ma non si accorge che non lo caga nessuno perché continuano a portare su facebook vuol dire che neanche tua mamma e tuo papà ti mettono il like e ci sono e ci sono su Trez ho capito veramente che cosa si prova a subire questa umiliazione la mia la mia risposta è che appunto è più un social per Viola il suo club ah vedi ok quindi è più per i giovani che vedremo come faranno a comprenderlo magari meglio meglio di noi di base quello che io so che tu hai sempre anche professato in giro è il fatto comunque che nonostante ce ne siano 180 ormai di social bisogna in una maniera dell'altra essere però presenti su tutti differenziando però i contenuti giusto allora più che essere per forza presente su tutti presente su quelli che sono utili per il tuo percorso professionale ritieni che possono essere utili ma essere presenti vuol dire essere attivi perché essere presenti senza essere attivi non serve a nulla quindi io per esempio personalmente sono attivo direi al 100% su LinkedIn dove lì do il massimo non sgarro mai sono presenti ogni giorno facebook ho ridotto molto la pubblicazione perché fino a poco tempo fa due tre anni fa facevo l'errore del copia e colla quindi anche tu l'hai avuto in questo momento sì ma i dati poi perché comunque un professionista del settore deve essere capace di analizzare i dati come si dice data driven dobbiamo essere guidati dai dati i dati mi dicevano che non funzionava che non andava bene i dati mi dicevano che gli unici contenuti che prendevo da LinkedIn e portavo su Facebook che andavano bene erano quali? quelli per esempio oggi quando mi darai il materiale sì io farò un post sono stato in radio ospite di Fabio ok e quello piace ho fatto uno spiccia Budapest quello piace quindi diciamo l'eccezione è la tua quotidianità sì il vedere la vita del professionista del professionista attenzione e sottolineo di nuovo perché poi arriverò al prossimo quindi non tu tua moglie figli quella cosa lì quello va tanto su Instagram ecco ok ecco vedi almeno parlo della mia persona quello va tanto su Instagram cioè io metto qualcosa ho fatto su Instagram ho fatto uno spiccia a Budapest bellissimo anche perché c'è la cosa che è in lingua inglese quindi di più se mi va bene faccio 20 like ok mentre se metto la foto con i miei bambini arrivo a 200 like ecco vedi va bene allora Viola cominceremo a fare foto in regia con te da mettere sul mio Instagram così faccio più like va bene ti uso come fossi la figlia che non ho in regia va bene facciamo una cosa del genere ma come età siamo lì eh sì no come età siamo lì già per affittori elementari Viola quindi insomma siamo lì eh quanti anni ha Viola? Viola è del classe 2003 giusto classe 2003 21 anni fatti da poco quindi Viola potrebbe essere una mia studentessa dell'OIED ecco io insegno anche all'OIED lì potrebbe essere una mia studentessa tecnicamente potrebbe essere mia figlia tranquillamente facendo conto che io sono del 79 sì potrebbe essere tranquillamente siamo lì siamo lì e allora invece è la bravissima producer che ogni giorno è protagonista di questa trasmissione cioè Viola ormai tutti i giorni parliamo di te veramente adesso metterò un cartonato tuo qui in studio così almeno sei qui presente sempre con me invece che stai in regia insieme a tutto il resto posso spezzare un lancio a favore di Viola bravissima stiamo parlando di una ragazza del 2001 2003 2003 che si sveglia alle 5 di mattina quanti lo fanno brava Viola poi ti dico la verità non si sveglia così presto don me qua allettino qui più o meno andiamo con la musica invece anche lei giovanissima bravissima nata a Milano viaggio negli Stati Uniti vissuto a New York e poi è tornata qua per fare il suo grande successo musicale sto parlando di Rose Villain con Click Boom Rose Villain Click Boom e finché fate click va bene se fa boom il computer c'è un problema invece e su quello neanche Gaetano può intervenire lì lì non può far niente neanche Gaetano invece su come fare i click giusti quello invece si su quello si si può aiutare stiamo parlando di mondo digital stiamo parlando di algoritmi stiamo parlando di come com'è quella cosa che ogni tanto si lo dico per molti professionisti che arrivano e arrivano i pop up le cose sei il primo su Google finirai primo nelle liste di Google ma non credere mai tra l'altro tanti venditori che chiamano proprio le aziende oh si si le chiamano state molto attenti intanto non è Google direttamente perché Google non vi chiama anche se vi arrivano mail e state attenti a queste promesse ho fatto una telefonata con Google una volta è stato sorprendente c'era un problema su un Google Places e mi hanno chiamato è stato bellissimo salve siamo Google ma Google ti chiama se tu hai già un account attivo ma non ti chiama per fare promozioni non ti chiama per fare promozioni chi ti chiama perché ti vuole vendere qualcosa e soprattutto Fabio ci tengo a precisare che nessuno nessun professionista Gaetano Romeo compreso può garantire il posizionamento su Google nessuno può garantirti ti chiamola bene questa Gaetano perché sono molti invece quelli che ti chiamano dicendo vuoi essere primo ti garantiamo la prima posizione su Google nessuno ve lo può garantire anzi nel momento in cui vi diranno ti garantiamo la prima posizione è il momento in cui dovrete scappare ecco perché non è assolutamente possibile tant'è che Fabio una delle frasi più famose si fanno anche tanti meme nella comunità social è dipende è un problema dipende sì perché la SEO comunque prende in considerazione circa 300 fattori cioè Google per posizionare un Google è un Google un sito prende in considerazione 300 fattori ma di questi 300 fattori come facciamo noi a capire qual è quello giusto quello sbagliato quello che ha un peso più grosso lavoro 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 test lavoro test sul campo e proprio per questo possiamo dirvi mi sento veramente forte e confidente di poter parlare al nome di tutta la comunità SEO italiana che nessuno può garantirvi il posizionamento su Google nessuno insomma i cialtroni ci sono ovunque quindi state attenti perché insomma anche qui ovviamente anzi magari col fatto che ne sapete poco ne approfittano di più se volete sapere di più invece ci sono i libri di Gaetano sette abbiamo detto il signor degli anelli e Harry Potter messi insieme una cosa del genere me ne mancano due per farne nome infatti ma tanto arriveranno sicuramente c'è qualcosa in cantiere non freschissimo ma c'è qualcosa in cantiere vorrei fare qualcosa sull'intelligenza artificiale ecco ecco bene bene non credo che si metterà a scrivere libri di ricette quindi insomma anche questo la coerenza è fondamentale sì ma non ti nascondo che ho un sogno di scrivere un romanzo un romanzo magari ambientato nel sì perché non ci dimentichiamo io sono laureato in lingue quindi sono laureato in umanismi visto che sei tanto di digitale perché un bel romanzo ambientato nel metaverso sarebbe interessante una storia d'amore nel metaverso metti un asterisco in fondo da uno suggerimento di Fabio Ranfi nel caso se lo scrivi magari ti faccio scrivere qualche capitolo ah va bene ok ma sarà contenta la mia maestra elementare che diceva che scrivo malissimo comunque no saluto la maestra Cristina le porteremo una copia infatti stiamo per chiudere invece quindi ricordaci un po' tutte le coordinate per sapere meglio della tua attività e anche dove trovare appunto i tuoi sette libri tra cui quello che mi hai portato qui questa mattina LinkedIn Marketing trasforma il tuo profilo in un potente strumento di promozione allora sì semplicissimo la dico proprio banale banale basta scrivere Gaetano Romeo su Google e trovate tutte le informazioni possibili è primo su Google sono primo su Google beh forse diciamo che con Gaetano Romeo se non eri primo su Google sì sono primo su Google mentre tutti i miei libri tranquillamente li trovate in tutte le librerie d'Italia ma se viene più facile sono tutti su Amazon e anche lì scrivete Gaetano Romeo vi vengono tutti fuori questo qui è Maggioli Editore per la collana Digital Generation di cui sono anche il direttore di questa collana la collana della collana sono il direttore per questo scritto sette libri perché io li faccio io me li approvo beh non male non male non male mi ricordi qualcuno che fa una trasmissione in radio la mattina dalle sette alle nove su questa radio ma che poi si decide vagamente Fabio la vogliamo dire l'ultima cosa romantica che ti avevo detto Fabio per me è un pezzo di vita importante perché lui non lo ricordava ovviamente non lo sapevo non lo sapevo io l'ho ricordato io Fabio insieme a un piccolo gruppo nel mio cuore eletti sono state le prime persone quindi Fabio è stata una delle prime persone alle quali ho fatto un corso SEO parliamo di 13-14 anni fa è stato il mio primo corso SEO dove c'era anche Fabio e pensate ci ho anche capito qualcosa quello che è sconvolgente poi devo dire la verità come sempre come fa Fabio in questo caso ma a me sono arrivato a parlare in terza persona di me stesso come Pasquale del grande fratello infatti è intelligente ma non si applica nel senso che poi mi ha dato delle bellissime informazioni Gaetano ma poi devi un bravissimo studente ma non le ho applicate il tempo è quello devo imparare perché c'è da dire questo tutto quello che noi raccontiamo da quello che Gaetano racconta nei suoi libri poi dovete applicarlo dovete avere il tempo per dedicarle a queste tematiche provare fallire try and fake credo sia ormai lo sponsor e poi dipende come dicevamo prima quindi capire cosa non funziona metterlo a posto e ci sono tutte le ricette ecco effettivamente tu scrivi libri di ricette comunque sono ricette sono ricette algoritmiche ecco infatti Gaetano grazie mille di avervi stato qui con noi grazie a te noi ci risentiamo presto sicuramente aspettiamo anche il prossimo libro quindi verrai qui sicuramente a presentarcelo e seguitelo Gaetano Romeo su Google trovate tutto e poi seguitelo su LinkedIn dove è veramente super attivo grazie Fabio grazie a tutti e a prestissimo e andiamo avanti con la musica lei ha vinto Sanremo quasi inaspettatamente no forse ciò aspettavamo tra il fatto che è un grande pezzo scritto anche insieme a una grande artista che è Madame questo è Angelina Mango con La Noia Angelina Mango La Noia 8 e 56 siamo in super ritardo oggi dobbiamo chiudere dobbiamo andare di fretta perché dopo di noi c'è Ambrogio Curti con Senti Questa ebbene sì scusami Ambrogio se ti ho rubato qualche minuto adesso è tutta tua la linea al giornale radio e poi ad Ambrogio Curti con Senti Questa noi ci ritroviamo sempre qui domani mattina no 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 perché è venerdì e quindi lunedì ci vediamo thanks god is friday no no sono contento non perché anzi mi mancherete nel weekend però dai due giorni di pausa possiamo prenderci no e allora buona giornata buon weekend lunedì qui alle 7 di nuovo con Good Money Milano puntata al numero 100 100 100 gira la ruota e no erano due cose diverse 100 ok il progetto è giusto ciao ragazzi ciao ragazze ciao a tutti ci sentiamo lunedì ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti